E' ancora alta a Teramo l'attenzione sull'argomento TEAM, una situazione ancora oggi complessa e sfaccettata che al momento vede l'ufficialità dei passaggi ancora ferma, come rendi conta il nulla di fatto dell'incontro con i sindacati circa il numero esatto dei dipendenti interessati dalla procedura di mobilità. Intanto è prevista per fine mese la scadenza della relazione che il Comune dovrà presentare alla Corte dei Conti sulla ristrutturazione della società partecipata. Stiamo andando avanti con la gara a doppio oggetto, stiamo andando avanti con la relazione che il sindaco deve fare entro il 31 marzo 2015 nella quale in relazione si devono tracciare le linee generali per la ristrutturazione delle società partecipate. Insomma si sta andando avanti, la gara a doppio oggetto scelta del socio privato, affidamento dei servizi. I servizi che sicuramente la Tiamo non potrà più fare sono pulizia immobili e musei e per questo stiamo anche qui andando avanti, soprattutto sui musei, perché sulle pulizie il Comune come abbiamo già più volte detto, le pulizie dei locali se le farà internamente avendo reinternalizzato tutti gli uffici che già a partire da questa settimana, la settimana decisiva saranno tutte all'interno di spazi di proprietà del Comune. Quindi questa è l'attività che stiamo portando avanti. La gara a doppio oggetto è impegnativa e quindi l'obiettivo è entro il 34 di andare in Consiglio Comunale e poi proseguire per quelli che sono i tempi tecnici, ci vorrà magari sicuramente qualche tempo in più ma si sta andando avanti. Più o meno si sa quanti dipendenti andranno in mobilità? Il numero preciso lo deve dire la TEAM e credo che questa settimana sia la settimana giusta per aprire la lista di mobilità. Nel frattempo i sindacati hanno chiesto un incontro al prefetto, giovedì saremo dal prefetto a spiegare queste cose ma insomma è un discorso di nuova normativa o di normativa prevista. Io vorrei sottolineare a chi dice che aveva la palla di vetro e che aveva previsto che la normativa sulle società partecipate negli ultimi anni sarà cambiata almeno 5-6 volte. è cambiata a gennaio del 2015, quindi chi dice lo sapeva già durante le elezioni vuol dire che insomma era un veggente.